Emiliano Mondonico, è ufficiale il passaggio di Matteo Darmian, rivelazione degli ultimi anni del Torino al Manchester United, pensi che questo passaggio per il giocatore possa essere assimilabile a quello che è successo per Cerci, per Immobile, oppure andrà un po' sottotono, oppure andrà a fare una stagione da protagonista secondo te in Italia? Il ruolo è nettamente diverso ed è chiaro che per un attaccante diventa estremamente difficile confrontarsi in certe situazioni, per un difensore invece è abbastanza normale inserirsi nel contesto difensivo di una squadra. Poi non so se la sua partecipazione alle gare avrà lo stesso impeto, lo stesso valore, lo stesso atteggiamento naturale che ha avuto nelle gare del Toro. Però chiaramente giocare nella fase difensiva è molto meno difficile che giocare nella fase offensiva in un contesto di una squadra chiaramente nuova, particolare. E perciò se per un attaccante ci vogliono un po' di mesi per capire come vanno le cose, per un difensore assolutamente penso che sia naturale e più passa il tempo e più la sua capacità viene messa in evidenza. Si parla in questi giorni dei futuri eventuali possibili acquisti, Baselli, Zappacosta, diciamo secondo te allo stato attuale delle cose può diventare o è già forse un Toro più forte o comunque nella testa per la prossima stagione? Che Toro ti aspetti insomma? Il solito Toro di Ventura oppure con i giusti innesti può veramente diventare quel grande Toro di cui il nostro allenatore sta parlando negli ultimi periodi? Io penso che sia importante che sia rimasto Ventura perché Ventura in questo momento è un po' il filo conduttore di tutto quanto sta succedendo al Toro. Penso che anche nel discorso acquisti vendite lui metta la sua parola e penso che lui per quanto riguarda la squadra, per quanto riguarda i tifosi sia un punto di riferimento. E perciò se un punto di riferimento si permette di fare determinate dichiarazioni vuol dire che è sicuro al 120% di quello che è in mano, di quello che ha a disposizione perché nessuno si tira la zappa sui piedi. Zappa Costa, parlando di Zappa, secondo me è un giocatore che si avvicina molto alla filosofia di gioco di Darmian. All'Atalanta faceva il quarto nella fase offensiva. Penso che riesca anche nel 3-5-2 a fare tutto quanto alla fascia perché è un giocatore con grandi qualità aerobiche e che in questo momento, penso, fino ad oggi sia stato inseguito da molte società. Così come Baselli. Baselli è un giovane che ha giocato poco, molto evidente ha giocato meno di quanto si potesse pensare, però è un giovane che ha messo in evidenza le sue qualità e le sue caratteristiche. Visto in nazionale sembra anche un leader in mezzo al campo c'è chiaramente questa fase di diventare titolare fisso e qui chiaramente la mano dell'allenatore è determinante. Sicuramente questi due giocatori, giocatori con grandissime qualità, con grandissime caratteristiche che arrivano da una squadra che chiaramente prepara i giovani in una certa maniera e che perciò possono portare al Torino le giuste alternative.